Si chiama Fly, volare tra i colori. Vi presentiamo adesso la nuova collezione Impact Ball Beachwear, collezione Spring Summer 2020 di Rossana Marzella. Insieme a lei l'Ottica EOS dove troverete un'estesa galleria di montature di occhiali da sole che vi permetterà di scegliere i modelli più alla moda, dei migliori brand presenti sul mercato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.